Una buona serata da Tantanotizia di Imperia TV e da Andrea Pomati. Per la prima volta negli ultimi anni di profonda crisi la provincia di Imperia è riuscita ad approvare in tempi ragionevoli il bilancio di previsione, quello pluriennale. Lo ha evidenziato oggi il presidente Fabio Natta, evidenziando anche come vi siano a disposizione 5 milioni per la sistemazione delle strade. Ascoltiamo. È la prima volta in questi anni difficilissimi che riusciamo a approvare un bilancio preventivo in termini ragionevoli, non alla fine dell'anno, non di corsa, ma con ancora un buono spazio per questa normalità, per poter gestire finalmente in maniera normale i servizi che dobbiamo svolgere. Questa normalità nell'approvazione del bilancio non corrisponde alla normalità nella gestione complessiva dei servizi perché le difficoltà economico-finanziere ci sono, sono tantissime, però anche da questo punto di vista si intravede la luce in fondo al tunnel perché nelle prossime annualità e oggi per la prima volta dopo anni abbiamo approvato anche il triennale, non solo il bilancio annuale. Parlo ad esempio delle strade si parla di fondi già certi e sicuri di oltre 5 milioni di euro da poter destinare ad opere importanti. Quindi a questi si andranno ad aggiungere le somme che auspicabilmente arriveranno per le scuole, ma abbiamo buone speranze anche sotto questo profilo di avere dei contributi davvero importanti. Ecco, sono piccoli passi che però ci fanno sperare bene per il futuro. La provincia oggi è un ente a metà del guado, lasciata senza le risorse per agire, bisogna far sentire la nostra voce. Lo ha affermato oggi il sindaco di Imperia Claudio Scaiola, a margine della sua prima partecipazione ad Assemblea dei Sindaci e Consiglio Provinciale. Scaiola ha anche annunciato i primi interventi operativi già messi in atto. Sentiamo. Onorevole Scaiola, suo esordio nell'Assemblea dei Sindaci della provincia ha meno di una settimana dall'elezione. Eh sì, mi pare giusto partecipare a tutto ciò che è rappresentato il Comune di Imperia. Poi per il problema della provincia nasce la necessità di auspicare che questa riforma a metà funzioni, perché la provincia non è né carne né pesce. Quindi ci auguriamo che il Parlamento capisca che dopo la bocciatura della riforma costituzionale la provincia è rimasta a metà del guado, non riesce a sopravvivere e non riesce a svolgere le sue funzioni. E soprattutto in una provincia come Imperia, che ha 67 comuni, tutti piccolini salvo i tre grandi, quindi questo crea un problema sulla manutenzione della viabilità, sulla vivibilità dei piccoli comuni. Quindi bisogna far sentire la voce. Un primissimo bilancio di questi primi giorni passati a Palazzo Civico? C'è tanto da fare, ce n'è sempre di più. Bisogna eliminare tutti i contenziosi che ci sono, fare partire la manutenzione della città che è iniziata a partire, come si vede. Oggi si è aperta la fontana, perché bisogna che ognuno si assuma le proprie responsabilità, mentre invece ci si era abituati a fuggire dalle responsabilità. Uno amministra per avere delle idee e quando queste idee le deve realizzare deve avere il coraggio di difenderle. Non si può governare non affrontando i problemi. Oggi scade la proroga con la TecnoService, quindi per i rifiuti ci sarà un'ulteriore proroga tecnica? Una proroga tecnica che porteremo fino al 31 di dicembre, per avere il tempo di definire una volta per tutte il futuro della raccolta differenziata, ma voglio risolvere insieme alla proroga tecnica i contenziosi. Non si può andare avanti con i contenziosi, quindi spero che con il rinnovo della proroga per un breve periodo si riesca a mettere anche la parola fine ai contenziosi. Non si può vivere di avvocati. Dal 3 al 5 luglio i treni fra Taggio e 20 miglia saranno sostituiti da collegamenti con bus. Lo hanno fatto sapere le ferrovie, evidenziando che sulla rete verranno effettuati importanti interventi di ammodernamento e sicurezza ai particolari, in un servizio. Dal 3 al 5 luglio una serie di interventi di potenziamento infrastrutturale interesseranno la linea ferroviaria tra Taggio e 20 miglia. Le attività organizzate da rete ferroviaria italiana sono propedeutiche al completamento del nuovo piano regolatore della stazione di 20 miglia e all'attivazione del nuovo apparato centrale computerizzato della stazione di Taggia. L'investimento economico supera i 35 milioni di euro. Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà sospesa la circolazione fra Taggio e Mentone. Gli spostamenti in territorio italiano saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus. In particolare i treni del trasporto regionale saranno sostituiti con bus tra 20 miglia e Taggia, Arma o Imperia. I treni intercity faranno capoline a Taggia e il resto del percorso sarà su bus, mentre i treni Tello, Milano 20 miglia e Nizza Marsiglia faranno capoline a Imperia o Savona e non saranno sostituiti con bus. Maggiori informazioni si possono ottenere sul sito delle ferrovie, nelle biglietterie e negli uffici di assistenza alla clientela. Il neosindaco di Vallecrosi Armando Biasi si è già messo al lavoro per affrontare alcune problematiche urgenti della città. Lo ha spiegato ai nostri microfoni lo stesso Biasi. Biasi elezioni finite, adesso lei è il nuovo sindaco di Vallecrosi. è una bella vittoria e una bella rivincita, se vogliamo vedere anche la sua storia personale come impegno politico ma anche umano. Adesso però bisogna lavorare, bisogna cominciare a fare le cose. Lei da che cosa comincia? Sì, diciamo che la festa è finita. Un'ora di festa, io sono uno stacanovista e bisogna lavorare. Giunta fatta, consiglio fatto. Quali sono i problemi sul tavolo? I primi due immediati che mi sono trovato da risolvere, purtroppo da un anno la nostra passeggiata a mare sulla base di un intervento, di un primo tratto di pista ciclabile, ha visto un grossissimo problema di carattere di viabilità e di parcheggio che ha creato ai residenti, ai commercianti, a coloro che frequentano la passeggiata a mare enormi disagi. Di lì abbiamo preso in mano la pratica, abbiamo fatto un'approvazione di giunta, settimana scorsa abbiamo fatto i lavori necessari e quest'oggi abbiamo aperto al pubblico questo importante parcheggio. Da qui a 10-15 giorni cercherò di aprire l'accesso a un secondo parcheggio e il 9 di luglio stiamo organizzando, ormai abbastanza pianificata, la realizzazione degli asfalti dalla via Aurelia. Quindi in realtà volevo dare un segnale che siamo arrivati. Arrivati anche a contatto col cittadino, perché lei il contatto che ha fatto in campagna elettorale non vuole smettere di mantenerlo, è vero così? Minimamente, noi abbiamo promesso un'amministrazione aperta, la nostra lista si chiama cittadini in comune, quando il concetto di cittadini in comune è un concetto molto preciso di una missione che noi vogliamo portare avanti. Quindi noi abbiamo promesso che il cittadino sarà una parte fondante del nostro mandato amministrativo. Tra l'altro il 2 luglio, lunedì prossimo, alle ore 19 ho indetto la prima assemblea pubblica con a tema metodo amministrativo partecipato, in cui spiegherò nei prossimi 5 anni il sottoscritto, la giunta, i consiglieri, tutti coloro esperti che avranno voglia di apportare competenze per la crescita dell'identità cittadina, dall'aspetto economico e sociale, sono i benvenuti. In realtà, una frase, passamela, vorrei arrivare al punto in cui positivamente sono io che estresso i cittadini e non i cittadini che stressano me, perché fino ad oggi chiunque mi ha chiesto un appuntamento lo ha avuto ogni un paio di ore, chi mi ha chiesto di fare un sopralluogo sono già andato e questo deve essere quello che è il ruolo del sindaco, nessuno ce lo impone, ma nel momento che lo facciamo dobbiamo farlo così. Un nuovo allarme volto alla tutela dell'olio Ligure arriva dalla Col di Retti a fronte di un incremento forte dei consumi per l'associazione di categoria, infatti pesante il rischio che un olio fatto con olive straniere venga spacciato per Ligure. Sentiamo. Sono più di 15.000 gli ettari destinati all'olivicoltura in Liguria, dove si produce da secolo un olio considerato fra i più delicati al mondo. Di questi ettari, su circa 2.578, grazie a 950 olivicoltori, si produce un olio che rientra a pieno titolo nel marchio della DOP come Extravergine d'oliva DOP Riviera Ligure, che conta la produzione di circa 500.000 litri all'anno. Si stima che oggi 9 famiglie italiane su 10 consumino olio d'oliva quotidianamente e questa buona abitudine ha ormai varcato i confini territoriali, spopolando nel mondo con una crescita record di consumi che in una sola generazione ha fatto un balzo di quasi il 49%. Lo rende noto Col di Retti Liguria in occasione della presentazione del più grande contratto di filiera per l'olio made in Italy di sempre, per un quantitativo di 10 milioni di chili e un valore di oltre 50 milioni di euro, sottoscritto da Col di Retti, una Prol Federoglio e Fai Spa, filiera agricola italiana. Secondo Col di Retti questa nuova apertura sarà un ottimo incentivo all'export dell'olio italiano anche per produzioni di altissima qualità come quelle Liguri. Il presidente Liguri di Col di Retti Gianluca Boeri ha però ricordato che lo scorso anno sono stati prodotti 429 milioni di chili di olio a fronte di un volume di importazione che ha superato i 500 milioni e ben in due terzi sono arrivati dalla Spagna. Il rischio per Boeri è che senza una DOP strettamente legata al territorio venga spacciato come italiano, olio ottenuto da olive straniere. Approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti il finanziamento con oltre 52.700 euro di 11 fiere e iniziative strategiche per la promozione del territorio. Si tratta di fiere dedicate al commercio, all'artigianato locale, in particolare di 5 storici expo dell'entroterra inseriti nel piano annuale delle iniziative promozionali 2018. Questi esposano quelli della Val Polcevera, Valle Stura, Valtrebbia, Valfontanabuone e Valle Arroscia. Oltre ai fondi già impegnati possono essere impiegati ulteriori 27.800 euro per altre iniziative a sostegno del sistema economico Ligure. La CIA, Confederazione Italiana degli Agricoltori della Liguria, spera finalmente in una svolta per quanto riguarda le erogazioni dei fondi del PSR nel piano di sviluppo rurale. L'ha evidenziato il presidente Aldo Alberto, dopo i problemi verificatisi con il sistema nazionale dei pagamenti. Ne parliamo in un altro servizio. L'annunciata riorganizzazione di Agea, l'Agenzia per l'erogazione in agricoltura, induce a un cauto ottimismo il presidente di CIA Liguria, Aldo Alberto. Lo stesso Alberto auspica che sia finalmente la volta buona e che anche la regione faccia la sua parte. Da tempo, infatti, la Confederazione degli Agricoltori denuncia il ritardo nel pagamento dei contributi e l'ineguatezza delle strutture necessarie al corretto funzionamento del PSR, il piano di sviluppo rurale che prevede finanziamenti europei per le imprese agricole Liguri per un totale di oltre 300 milioni di euro. La proposta di riforma di Agea pubblicata in Gazzetta Ufficiale punta a garantire maggiore efficienza e trasparenza per quello che è l'ente di diritto pubblico deputato a svolgere le funzioni di organismo pagatore nazionale dei fondi agricoli comunitari e di coordinamento degli organismi pagatori regionali. Il sistema sanitario Ligure è pronto e attrezzato per far fronte all'incremento di afflusso di pazienti connesso alla presenza di turisti. Lo ha assicurato l'assessore alla salute Sogna Viale ai nostri microfoni. Sentiamo. Vicepresidente, assessore Viale, come sempre la Liguria è in estate ed è ovviamente anche una speranza, si popola e aumenta la popolazione con il turismo. Le strutture sanitarie sono pronte anche quest'anno? Sì, abbiamo come tutti gli anni previsto una programmazione dei lavori che consenta sia l'accoglienza delle persone nelle nostre strutture ospedalieri sia la possibilità per il personale di godersi anche il meritato riposo. Quindi vi sarà lo slittamento come ogni anno degli interventi cosiddetti programmati ma verranno garantite tutte le urgenze. I pronto soccorso sono come sempre anche impegnati nel far fronte anche alla richiesta da parte di turisti per cui abbiamo potenziato il servizio di continuità assistenziale alla cosiddetta guardia medica per far fronte soprattutto nelle ponti e nelle festività una presenza di una tutela di tipo sanitario. La regione Liguria ha una vocazione turistica e quindi dobbiamo comunque accogliere, essere presenti. Nell'area metropolitana di Genova abbiamo studiato un piano caldo molto importante perché soprattutto nelle grandi città che vi è il problema degli anziani e delle temperature elevate che creano anche disturbi. Nelle altri territori chiaramente il rapporto con i servizi sociali dei comuni può consentire anche di individuare soprattutto gli anziani che vivono da soli e che possono vivere e trascorrere i giorni di maggior calura in situazioni anche di difficoltà e di disagio, cioè possono anche non muoversi di casa, delle difficoltà per l'approvvigionamento, quindi è chiaro che una sinergia sempre più forte tra Asle e comuni in questo caso è importante. Partiamo da Genova quest'anno ma esporteremo poi il modello anche nelle altre realtà. Ora una breve pausa, poi altre notizie e servizi fra poco. Riprendiamo e torniamo ad occuparci del convegno ospitato a Genova su iniziativa di Union Camere dedicato alle nuove forme di finanziamento per le piccole e medie imprese. Ascoltiamo le dichiarazioni del segretario generale della Camera di Commercio genovese Maurizio Caviglia e dell'assessore regionale allo sviluppo economico, Andrea Benveduti. Il nostro obiettivo è quello di iniziare a fare un po' di formazione di informazione e far sapere alle nostre imprese che hanno bisogno di conoscere meglio quali strumenti e quali opportunità ci sono per accedere al credito. Le imprese italiane sono molto vincolate a crediti e prestiti solo di natura bancaria. Abbiamo illustrato tutta una serie di soluzioni che consentono all'impresa di accedere anche ad altre forme di finanziamento. In particolare noi con Rete Fidi Liguria abbiamo creato e sperimentato già una formula tra il mini bond e la cambiale finanziaria che ha consentito a una serie di imprese di poter accedere a forme di finanziamento innovative e veloci e secondo noi è importante riuscire a consolidare questa esperienza e potremo farlo con la regione dell'Iguria se riusciremo a fare tutte quelle misure di ingegneria finanziaria che potranno trasferire queste buone pratiche su imprese medie non piccole non micro anche sulle micro imprese che rappresentano oltre il 95% delle imprese iscritte al nostro territorio. Il tema della finanza soprattutto alla piccola e media impresa è un tema molto molto caldo e non da ora. Purtroppo tutto ciò che è successo in ambito europeo, nel mondo bancario ha contribuito a creare una tensione spesso di liquidità che rischia di affossare anche quelle imprese che magari hanno invece un bel business model e hanno anche l'attività consolidata. La vulgata che spesso si dice che le banche danno i soldi e che non hanno bisogno purtroppo è vero, chi viene dal mondo delle aziende come vengo io lo ha constatato. Quindi il lavoro che stiamo facendo molto proficuamente con le associazioni già da tempo con una serie di tavoli di incontri che si in qualche maniera catalizza oggi ma proseguirà nel prossimo futuro con altri tavoli più tecnici e specifici è proprio quello di raccogliere bottom up le istanze vere e concrete della piccola e media impresa e cercare come amministratori di focalizzare poi su un numero definito di provvedimenti e di strumenti finanziari che non possono essere chiaramente 100 dove attivare la nostra azione di supporto. Quando avremo definito poi il pacchetto faremo magari una conferenza stampa e spiegheremo nel dettaglio dove siamo arrivati, però la volontà è proprio quella, cioè di metterci noi a disposizione ascoltando come americani the voice of client. Per noi clienti tra virgolette è il tessuto economico delle piccole e medie aziende, quindi sono loro attraverso le associazioni che ci raccontano dove soffrono e vediamo poi di sposare un'azione che noi possiamo calare dall'alto per farle soffrire un po' di meno. Per i mesi di luglio e agosto il comune di Rivaligure ha varato un fitto calendario di eventi, li ha illustrati ai nostri microfoni l'assessore al turismo Francesco Benza. Rivaligure torna in tutto il suo splendore per i mesi di luglio e agosto con un ricco calendario di manifestazioni, qui c'è Francesco Benza che è l'assessore al turismo e appunto manifestazioni, chi meglio di lui può descriverci un po' di questo calendario che tra l'altro per un piccolo comune è un calendario di tutto rispetto, sono due mesi molto pieni Benza. Assolutamente, quest'anno ce l'abbiamo messa tutta per cercare di realizzare un calendario veramente ricco e adatto a tutti i gusti. Saranno due mesi intensissimi perché ogni sera ci sarà un evento, una manifestazione. Quest'anno spicca nel nostro calendario i quattro spettacoli pirotecnici che realizzeremo sia a luglio che agosto. Ci saranno due street food, l'installazione il 26 luglio di una grande ruota panoramica, due serate dedicate alla bellezza femminile con le selezioni di Miss Italia. Un'altra sciccheria, possiamo definirla così, sarà la serata dedicata al wrestling, unica data in Liguria di questo intrattenimento sportivo che siamo abituati a vederlo in tv ma dal vivo è difficile trovare delle occasioni per vedere questo genere di manifestazioni. Serate culturali con la rassegna a Sanenzucca tutti i lunedì, il cinema all'aperto tutte le domeniche. Insomma un calendario dedicato alle famiglie, ai bambini che è il target principale che frequenta il nostro piccolo borgo marinaro. Arriva a Ligure sui bambini si è sempre distinta anche quasi per un mini calendario dedicato all'interno di questo grande profondi aventi. Assolutamente, noi abbiamo una rassegna che chiamiamo Bim Bum Bam, dedicata esclusivamente ai bambini, dove tutti i mercoledì di luglio e agosto abbiamo spettacoli di intrattenimento per i bambini, gonfiabili, il ventrilo con Nicola Pesaresi verrà a trovarci, il circo, un po' di tutto. La domenica cinema all'aperto. Il culmene di questa rassegna lo raggiungiamo il primo di agosto con la Notte Bianca dei Bambini, dove avremo un po' una summa di tutti questi eventi dedicati ai bambini e una bellissima Notte Bianca per loro. La sala conferenza del Museo dell'Olivo Carlo Carli d'Imperi ha ospitato oggi il convegno di dermatologia di Liguria e Sardegna. Numerosi gli esperti che si sono confrontati in particolare sui tumori della pelle e sui danni provocati da un'incontrollata esposizione al sole. L'iniziativa è stata organizzata dal primario dermatologo imperiese Giuseppe Cannata. Il congresso dei dermatologi di Liguria e di Sardegna è oramai entrato nella tradizione estiva della dermatologia imperiese. Abbiamo quest'anno anche la partecipazione di due colleghi di Nizza che collaborano con la dermatologia imperiese da tanti anni. Soprattutto il professor Christophe Peren che è l'anatomo patologo che fa tutti gli esami di tumori o malattie infiammatorie dall'apparato ungueale e tra l'altro a costo zero per questa ASLE perché rientrano in un programma di ricerca dell'Inserm francese laddove poi noi altri pubblichiamo su riviste internazionali la casistica ampia che fa parte del nostro servizio di dermatologia. Si parla poi anche di tumori melanocitari, soprattutto il melanoma e voglio dire che quest'anno nei primi sei mesi qui in Peria sono stati diagnosticati 19 melanomi di cui soltanto uno nella forma nodulare, quella più aggressiva e a prognosi in fausta, mentre gli altri 18 casi sono tutti sottili o in situ. Ciò significa che questi pazienti non avranno sequele e una volta che è stato asportato loro sono guariti, dovranno però controllarsi periodicamente. Quindi il trend di questo tipo di tumori anche nella nostra provincia è in grande aumento e sono contento di queste diagnosi precoci perché salvano tante vite. Per finire voglio attirare l'attenzione sul fatto che in settembre ci sarà anche un convegno questa volta rivolto ai media alla popolazione su quello che deve essere la protezione della pelle dei danni solari e verrà fatto in occasione delle vele d'epoca dal 5 al 9 settembre. In quell'occasione ci sarà una barca che si chiama Sandra che parteciperà alle regate con un equipaggio di medici velisti tra cui anche dermatologi e poi nel tardo pomeriggio tutte e quattro le giornate ci sarà una conferenza con un aperitivo su quello che è importante per proteggere la pelle dai danni del sole. Il Vescovo Diocesano di Albenga Imperia, Guglielmo Borghetti, è nominato ufficialmente Don Enrico Giovannini quale paroco di Cosio d'Arroscia. È stato lo stesso Vescovo a evidenziare ai nostri microfoni l'importanza della nomina per la comunità parrocchiale. Vediamo. Monsignore, una giornata importante per Cosio d'Arroscia per tanti aspetti anche perché oggi qui oltre all'inaugurazione di questi bellissimi locali si dà il benvenuto a un nuovo parroco e ai ragazzi della Cresima e delle comunioni. Insomma una festa completa. Direi sì proprio una festa a 360 gradi. Magari più che il benvenuto a un nuovo parroco diciamo che c'è stato un momento di conferma e di riconoscimento dell'operato che Don Enrico ha fatto e di cui ha dato prova in questi anni, questi quattro anni di amministratore parrocchiale. Quindi ecco il titolo più completo, più pieno e anche più responsabilizzante di parroco quindi di arciprete di Cosio d'Arroscia. Quindi credo che, ripeto, benvenuto sicuramente ma è anche un bellissimo gesto di riconoscimento. Come giustamente ha detto Don Enrico nel suo intervento a fine della Messa è sicuramente un riconoscimento a lui però è anche un riconoscimento a queste comunità parrocchiali dell'entroterra che hanno tutto il pieno diritto, hanno tutte le loro caratteristiche e quindi è bene che non abbiano, come dire, ora uso questa espressione, non è proprio canonica ma insomma dei mezzi parroci, ma abbiano un parroco in pienezza. Ecco è stato anche un gesto di riconoscimento e di valorizzazione anche delle piccole comunità le quali personalmente tengo molto pur invitandole a collaborare tra di loro a cooperare tra di loro però è anche bello che sentano il riconoscimento di esistere come parrocchie in senso pieno. Quindi veramente una giornata di festa poi soprattutto i nostri ragazzi, i cresimandi, il bambino che ha fatto per la prima volta la comunione insomma certamente tutto questo crea un'atmosfera di grande letizia. In occasione della festa patronale di San Paolo, ieri sera ad Aurigo si è svolta la tradizionale sagra del Panzarello, un appuntamento che ancora una volta ha riscosso un notevole successo di pubblico ne parliamo in un altro servizio filmato. Roberto Ferrari è il presidente dell'associazione 3 Campanin, allora abbiamo visto veramente tanta gente al lavoro, tanti giovani, anche anziani che aiutano con l'esperienza insomma una bella squadra qui a Aurigo. Anche quest'anno siamo riusciti con le solite difficoltà che tutti gli anni incontriamo a organizzare questa festa e speriamo che riesca ad andare avanti così come gli altri anni perché sempre siamo riusciti ad avere un risultato molto positivo anche negli anni scorsi. Quest'anno abbiamo, come avete potuto vedere, abbiamo arricchito le due solite serate della festa di San Paolo e del giorno successivo anche con questa mostra fotografica che è stata organizzata da Domenico Reinisio che è un abitante qui di Aurigo che ha riscontrato molto successo sia stamattina al santuario che anche questa sera qui presso gli stand della festa. E cercate insomma di offrire sempre più spunti ma tutti legati al vostro paese, giustamente all'amore che avete per questo paese. La nostra associazione è nata proprio per questo, per cercare di tenere vive le tradizioni del nostro paese e per appunto mantenere quello che negli anni scorsi si è sempre fatto cercando appunto di riscoprire un po' le nostre tradizioni, anche quelle che nel tempo sono andate un po' diciamo tralasciate. Signor Dall'Erba, grazie a tanti volontari dei Tre Campanin si riescono a fare queste serate ad Aurigo in un borgo che è splendido per la natura che offre, per il paesaggio che offre. Si riesce ad aggiungere musica, festa, prodotti tipici, allegria, un richiamo per i residenti, per i turisti. Sì Andrea, praticamente hai detto tutto in poche parole. Innanzitutto un grazie all'associazione perché è veramente un servizio di volontariato puro, perché qui questa sera vediamo tanti ragazzi, ragazze che si adoperano perché la serata sia bella, perché sia funzionale il servizio, ma teniamo conto anche che sono settimane di lavoro, che è già parecchio tempo che stanno lavorando per preparare questa festa. È una festa che quest'anno gira su due giorni, San Pietre Paolo la festa patronale, indipendentemente dal giorno della settimana, un giorno feriale, un giorno festivo si fa quel giorno lì, inizia la mattina con le funzioni religiose sul santuario molto partecipate, come è stata anche quella di oggi, prosegue poi durante la giornata con le musiche in paese, le cosiddette mattinè dove passano i ragazzi a raccogliere tra la gente le offerte che la gente vuole fare e poi alla sera si conclude qui con il ballo e con il servizio di ristorazione. Dopo una vita sul mare, passata a girare il mondo, sono seduto a pensare e tutto mi cambia il giorno, quando ero giovane pieno di vita, sul ponte di un grande belliero, il capitano chiamava ragazzi ed io ne andavo fiero. Sabato 7 luglio torna Garestio l'appuntamento con la Notte Bianca, l'edizione estiva dell'appuntamento è la numero 7, l'evento si è ampliato con un concerto e una notte discoteca fino alle 4 del mattino, l'iniziativa è stata presentata dalla TL di Cuneo, vediamo. La Notte Bianca è una festa, un percorso enogastronomico che ormai è giunto alla sua tredicesima, al suo tredicesimo appuntamento, viene riproposto sia d'estate che d'inverno, quest'anno l'edizione estiva è la settima ed è diventata, è un po' cresciuta, è diventata XXL perché oltre ad avere un percorso enogastronomico, alla fine di questo percorso, quindi intorno a mezzanotte ci sarà poi un concerto alla pista di patinaggio degli ex articolo 31 e dopodiché ha finito il concerto e ci sarà poi una notte discoteca fino alle 4 del mattino. Fondamentalmente noi non facciamo altro che appoggiare le varie organizzazioni che così fanno sì che si possa dettagliare nel miglior modo possibile la stagione estiva e a volte anche quella meno estiva. In questo caso ci troviamo di fronte a un'organizzazione funzionante, pluri affermata che da 10-15 anni, non ricordo esattamente, funziona benissimo in questo tipo di organizzazione, ci affidiamo a loro e speriamo di poter ricevere così anche a Garescio sia per persone che arrivano dal Basso Piemonte e dalla Liguria per poter far vedere che riusciamo e vorremmo organizzare qualcosa di più piacevole, di più importante e far sì che così sia un bene anche per la nostra città in generale. Occhio al vicino di Ombrellone, quest'anno gli investigatori privati sono scatenati per scoprire le infedeltà proprio sotto l'Ombrellone. A metterci sull'avviso nell'ultimo appuntamento prima della pausa estiva è Daniele Lacorte con il suo angolo e lo ascoltiamo subito. Occhio al vicino o alla vicina di Ombrellone, mai fidarsi dei nuovi compagni di nuotata della sedia accanto potrebbero essere vostri potenziali nemici. L'altro giorno un interessante articolo metteva in evidenza come quest'anno si siano scatenati gli investigatori privati per scoprire l'eventuale tradimento della gentile signora al bagno. Tintarella e corna, ecco la binata, che poi non è proprio una novità pensando agli eserciti di bagnini che disseminati lungo le spiagge della penisola hanno sempre rubato cuori da che mondo è mondo. Sulla spiaggia di Alassio Vittorio De Sica già negli anni 40 aveva girato I bambini ci guardano, un film, una storia d'amore e tradimenti consumata sulla soffice arena di quella che era una delle più celebre località estive dello stivale. Ora da Torino, da Milano, mariti sospettosi rimasti soli in città, se non in grado di trovare dolci in compagnia, si scatenano all'insegno della gelosia, assumendo 007 anticorna. Viene da ridere pensando che da quasi 20 anni abbiamo superato il 2000, ma è la verità e la verità spesso fa male. Sono prevalentemente donne gli agenti segreti che arrivano sotto l'ombrellone, controllano e riferiscono in un tourbillon di notizie che possono far saltare anche il matrimonio più ferreo. Tutto fa parte dell'estate, del clima vacanziero, dove una scappatella può anche essere concessa senza drammatizzare. D'altronde i bagnini dalla pancia in dentro e il petto in fuori non esistono più. Ormai dormono segalini ragazzotti dall'alto dei loro trespoli e dalla spiaggia. Vi saluto cari telespettatori, cari amici che mi avete seguito anche per questa stagione. L'Angolo va in vacanza, dandovi appuntamento in autunno. Buona estate e un abbraccio a tutti. Naturalmente ringraziamo Daniele Nacorte per il suo impegno costante attraverso l'angolo, spesso pungente, a volte riverente, ma sempre molto interessante e puntuale. Auguriamo buone vacanze a Daniele che torneremo appunto a incontrare in autunno. E adesso Riviere 20, poi l'autostrada dei Fiori. Noi ci risentiamo fra poco per il quadro meteo. Grazie a tutti. Non sono segnalati cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la carreggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it Questo il quadro meteo così come delineato da Arpal Meteo Liguria. Domani, domenica 1 luglio, al mattino sereno, poco nuvoloso, su centro Levante. Qualche addensamento di nubi basse lungo le coste di Ponente in dissolvimento. Dalle ore centrali possibili numeri cumuliformi sui rilievi con rischio di locali e brevi acquazzoni. Umidità su valori medi. Venti a prevalente regime di brezza lungo le coste da deboli a moderati meridionali nell'interno con qualche rinforzo fino a forti, specie sul centro. Mare da calmo quasi calmo in aumento a poco mosso o localmente mosso in serata. Dopodomani, lunedì 2 luglio, generalmente sereno, poco nuvoloso. Qualche addensamento più consistente sui rilievi. Umidità sui valori medi. Venti tra la notte e il mattino moderati o localmente forti da nord e nord-est a Ponente. Deboli meridionali altrove, a regime di brezza nel pomeriggio ovunque. Mare mosso al mattino, in cala poco mosso a iniziare da Levante. Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie a tutti voi per il vostro cortese ascolto. Andrea Pomati, auguro di trascorrere una buona serata oggi. Speriamo anche una felice domenica domani. Ricordatevi che Imperia TV è anche social, quindi sui profili Facebook, Twitter, sul canale YouTube e sul sito imperiatv.it. Tutto per informarvi sempre al meglio e puntualmente. Grazie e arrivederci. Una nave ONG imbarca migranti. Salvini, scordatevi, l'Italia. Gelo Italia-Francia sulla questione dei migranti. Cottarelli senza Monti, debito al 145% del PIB. Continua la stretta sulle ONG. Ne porti da parte del Viminale. La nave Open Arms di una ONG spagnola scrive su Facebook. Il ministro dell'interno Salvini si è lanciata verso un barcone e prima dell'intervento di una motovedetta libica in zona ha imbarcato una cinquantina di immigrati. Questa nave si trova in Acqua e Sarra della Libia, porto più vicino Malta. Si scordino di arrivare in un porto italiano. Con il passare delle ore e il susseguirsi delle dichiarazioni emergono nuovi dettagli sull'accordo raggiunta al vertice dell'Unione Europea sui migranti. In sostanza resta il nodo delle strutture da creare su base volontaria. Per Macron solo nei paesi di primo ingresso, ma per Roma non è così. Mentre la Merkel, migranti da Italia solo se c'è intesa sui secondari. I richiedenti asilo, dice, già registrati nel paese d'arrivo e bloccati alla frontiera tedesca, saranno trasferiti in centri sorvegliati. Senza la stretta fiscale del 2012 operata dal governo Monti, il rapporto tra debito e pilla sarebbe aumentato più rapidamente e sarebbe attualmente tra il 142% e il 145%. E quanto rileva l'ultimo rapporto pubblicato oggi dall'osservatorio dei conti pubblici diretto da Carlo Cottarelli. 17 anni in bianco-nero che si concludono ufficialmente oggi. 17 anni di amici, compagni, lacrime, vittorie. Non dimenticherò mai nulla, porterò sempre tutto con me fino alla fine. E il saluto via Twitter lanciato da Gigi Buffon alla Juventus. E questa era la nostra ultima notizia. Per ulteriori aggiornamenti basta collegarsi come sempre al sito adianecronos.com. Arrivederci ancora una volta dalla redazione web.